Con nuova EC4 100% elettriche e nuova C4, Citroën prosegue la sua offensiva elettrica e scrive un inedito capitolo della sua storia. Lo stile è deciso, con linee scolpite e assetto rialzato, integra alcuni elementi dei SUV. Aerodinamica e fluida, coniuga eleganza e dinamismo. Il suo abitacolo accogliente e tecnologico esprime immediatamente benessere e modernità. Offre un comfort straordinario, grazie alle sospensioni con smorzatori idraulici progressivi. I sedili Advanced Comfort e numerosi vani portaoggetti. Ben 20 tecnologie di aiuto alla guida, 6 funzioni di connettività. Oltre la scelta tra motorizzazioni termiche efficienti e prestazionali, benzina o diesel e 100% elettrica. Con autonomia di 350 km nel ciclo WLTP. Per una grande libertà di movimento, zero emissioni di CO2, silenzio, fluidità di marcia e piacere di guida. Nel 2020 ha debuttato sul mercato italiano Sub Citroen C5 Aircross Hybrid Plug-in. Il più confortevole e modulabile del suo segmento. Primo modello ibrido plug-in della marca offre una grande versatilità di utilizzo. Modalità elettrica per tutti i giorni, con un'autonomia di 55 km, zero emissioni e accesso alle zone urbane. Tutte le prestazioni del motore termico per le lunghe percorrenze e modalità ibrida. In grado di combinare il meglio delle due motorizzazioni. Ai massimi livelli le doti di comfort, grazie alle esclusive sospensioni con smorzatori idraulici progressivi. E ai sedili Advanced Comfort, a cui aggiunge tutto il piacere di una guida fluida e silenziosa, in modalità 100% elettrica. Al servizio di sicurezza e benessere a bordo, 6 tecnologie di connettività e 20 sistemi di assistenza alla guida. La gamma del monovolume Citroen Space Tourer si arricchisce di una nuova variante 100% elettrica, per la massima libertà di utilizzo con la possibilità di scegliere tra due diversi livelli di autonomia, fino a 230 km oppure fino a 330 km nel ciclo WLTP, in base alla potenza della batteria. Restano inalterate le doti di comfort, spazio a bordo e funzionalità, con la disponibilità di tre lunghezze per ospitare fino a 9 persone. Offre 15 tecnologie di assistenza alla guida e tre servizi di connettività. E-Space Tourer è in grado di rispondere alle nuove esigenze di mobilità, sia dei clienti privati, sia dei professionisti del trasporto di persone. Citroen e-Jumper è il sesto modello elettrificato lanciato nel 2020 nella gamma della casa. Agile e versatile, proposto in quattro lunghezze e tre altezze con un carico utile fino a 1890 kg e volumi di carico fino a 17 m3, nella sua versione 100% elettrica, il veicolo commerciale della marca del Double Chevron è offerto con batterie da 37 o 70 kWh, per un'autonomia che può raggiungere i 340 km nel ciclo WLTP. Su misura, per soddisfare le esigenze dei clienti professionisti, Citroen e-Jumper è l'ideale per garantire il trasporto giornaliero, con consegne fino all'ultimo miglio anche nei centri urbani. Permetterà di consolidare il successo di un veicolo fra i best seller di categoria in Europa. Protagonista da 90 anni nel mercato dei commerciali leggeri, Citroen-Jumper segna una nuova fondamentale tappa nella sua evoluzione. La sua versione 100% elettrica offre ai clienti professionisti una soluzione pratica alle sfide della mobilità, sia in ambiente urbano, sia per i percorsi extraurbani. Grazie ai due differenti livelli di autonomia, nel ciclo WLTP fino a 230 km con batterie da 50 kWh e fino a 330 km con batteria da 75 kWh. Un nuovo Citroen e-Jumper mantiene inalterato il volume di carico delle versioni con motore termico, ma aumenta il comfort a bordo e la fluidità di una guida silenziosa e senza emissioni. Grazie alla modernità del suo design, il comfort di bordo, le capacità dinamiche e la capacità di carico, combinate con i benefici della miglior tecnologia elettrica, Citroen e-Jumper è stato eletto International Banod Eier 2021. Svelata la Defensa Arena di Varigia a febbraio e in anteprima nazionale alla Milano Design City, Ami 100% Electric è la soluzione di mobilità urbana anticonformista di Citroen. 100% elettrica e accessibile a tutti, Ami 100% Electric si guida a partire dai 14 anni. Dal design moderno e simmetrico, si distingue per le sue dimensioni esterne ultracompatte, per una grande agilità in città e semplicità nei posteggi. Lo spazio interno è sfruttato al meglio per garantire abitabilità per due persone, sedute una di fianco all'altra in un ambiente chiuso, protetto e riscaldato, oltre a un'eccellente visibilità, grazie all'ampia superficie vetrata e al tetto panoramico in vetro. Offre 75 km di autonomia, grazie a una batteria da 5,5 kWh che si ricarica facilmente in sole 3 ore da una presa elettrica standard. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.